buongiorno a tutti amici di youtube da sandro finalmente dopo un lungo percorso escursionistico come indicato nel precedente youtube da taceno in esio vendrogno comasira sono arrivato in quel di taceno e mi accingo ad affrontare la pista ciclabile che parte da tartavalle terme qui siamo dove c'è la diga di tartavalle terme col fiume pioverna che scorre velocissimo alla volta di bellano verso l'orrido e lago di tomo questo è un altro bellissimo fiume che scende nel pioverna tutta quest'acqua è frutto delle piogge precedenti questa è l'area della pista ciclabile con il fiume pioverna alla nostra destra di tartavalle terme saluto anche il mio amico aldo che proprio in questo tratto abbiamo avuto l'occasione circa un anno fa di incontrarci per la prima volta dopo esserci conosciuti l'anno prima un saluto ad aldo e a tutti gli youtubisti da sandro ciao